Diana and Julia Oliver, ho un regalo per te! Sì! Wow! Wow! Grazie! Non è una semplice macchina, è una macchina magica! Oh! Cosa? Oliver, riempiamo la piscina di palline! Sì! Verde, giallo... Uno, due, tre, quattro... Ah! Oliver, abbiamo bisogno di aiuto! Ciao! Hai bisogno di aiuto? Sì! Andiamo! Wow! Wow! Uh-huh! 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 Sì! Uh-huh! 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 Non riusciamo a passare! Wow! Dobbiamo raccogliere tutti i palloncini! Sì! Questo è per sicurezza! Uh-huh! 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 Io aiuterò! Wow! Super! E ora continuiamo! La 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 la! Brum brum brum! La 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 la! La 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 la! Oh! Che cos'è? Mmm... È un puzzle! Oh-oh! Sì! Wow! Sì! Rosso! Wow! Arancione! Puzzle! Sì! Blu! Uh-uh-uh! Un altro! Mmm... 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 Non lo so! Mmm... Uh-uh! Brum 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 brum! Forza, vieni! È facile! Sì! 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 Yeah! Ne manca solo uno! Uh-uh-uh! Oh! Brum! Oh! No! Oh! Oh-oh! Oh-oh-oh! Oh-oh-oh! abbiamo bisogno di compiarlo guarda! sì! non funziona! ops! non preoccuparti aiutaci! ok! grazie! ciao! wow! ciao ciao! ciao!